L'idea del webinar nasce dalla voglia di raccontare esperienze già realizzate nella fase di accoglienza, in particolare in apprendimento cooperativo, perché pensiamo che il confronto con esperienze già sperimentate possa offrire degli spunti interessanti per gli insegnanti. Partiremo da una carrellata di esperienze sperimentate, focalizzandoci su alcuni momenti di lavoro, la descrizione nei dettagli delle fasi di lavoro che l'insegnante ha realizzato per proporre l'attività, una rilettura dell'esperienza attraverso l'individuazione di quelli che sono gli elementi caratteristici dell'apprendimento cooperativo e quindi come questi sono stati resi operativi all'interno delle attività e poi un'individuazione di quelli che sono gli elementi importanti per andare a riprogettare nella propria classe un'attività di questo tipo. Lavoreremo con una modalità il più possibile partecipativa in modo da costruire insieme nuova conoscenza ed esperienza per gestire il momento dell'accoglienza a partire dai primi giorni di scuola. Vi aspetto al webinar!